Asciò bene a questo, è cosa fiii? Cuuu! 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 Ma fai così da nulla, fai così! Andando Luigi! Voglio potessi lavorare con il gioco! Con l'istrano fatto un partito! Voglio poter cominciare con questi zozzi! Senti, ma come la cosa smagliava? Com'era la magliava? Ma la cosa smagliava? La magliava quando si... Aaaaaah! 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 Ma non ha mai visto quando scopare il magliale con la magliale? No! Sporco con la scrupa! Ha fatto vicino alla trama da vicino al cazzo, lo sai che fa... Così! A Black & Dagger c'è l'altro! Black & Dagger! Oddio! Che scudere, Marco! Che scudere! Vabbè, ma te sei contento da una verità a Roma! A Baffaculo, bravo! Eh? Ma io te l'ho scurato due volte a telefonino mio, senza che non... Gli ho pensato che vedete? Ma non è che è frano che stai facendo? Allora... 300... 2, 3, 6, 9... Che cosa è che sta facendo? Eh... Brava! E' più grande lui! 300... Ehi! 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 Comunque male, papà! Che vergogna mondiale! Tutto, insomma, tu non stai avvenendo la partita! No! Ma io... Guardate! Guardate! Una scatolettina levate così! Mi stai mettendo la lavo! Ehi! 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 Ma dopo 6-7 minuti lo stavano lavati! Vado a riprendi un po'! Ma io che ho pensato... Si era sbagliato questo! Ma ecco... Una demo! Una demo! E poi... Una cosa ne è che dopo 6-7 minuti! E allora va poi! Fuuu! Ahahahah! Che c'era? 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 No, no! No, non vedi che niente niente! Un tetri doni! Un cognato! Ma te dico... Un tetri doni! Un cognato! E' un tetri doni! Andiamo a 6-7 minuti! 2-5-6! C'era... E' un tetri doni! Ah... Uuu! Facciamo te una cosa! Vai! Eh? Facciamo te una cosa! Facciamo te la mucca! Facciamo te! Ah... Facciamo te! Ah... C'era! E' un tetri doni! Grazie a tutti.